Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con XTB Live News con lo specialista di mercato, mio nome è Walid Goodmoney, oggi è venerdì 29 gennaio 2021 e siamo alla fine della settimana, una settimana che è stata molto movimentata nei mercati tra, sono sicuro molti di voi hanno seguito le notizie su GameStop, sui mercati azionari, anche sui metalli preziosi e oggi andremo a parlare di tutto questo e di altro ancora prima dell'apertura dei mercati americani in quest'ultima giornata di trading. Iniziamo magari con gli eventi che sono accaduti durante la notte, il mercato asiatico e come è iniziata la giornata Ieri abbiamo avuto un rialzo dei indici statunitensi con il Nasdaq, il Dow Jones e l'S&P 500 tutti quanti in rialzo di oltre lo 0,5% Mentre invece da un punto di vista dei mercati asiatici, i mercati asiatici sono in calo almeno ieri lo erano del almeno quasi il 2% per il Nikkei, l'indice australiano di quasi lo 0,6% e il Cospi invece del 2,6% La situazione pandemica continua a peggiorare che ovviamente è molto rilevante per i mercati perché ha infatti anche da un punto di vista di lockdown e quindi sulle economie in generale e abbiamo avuto anche delle nuove notizie su dei vaccini che c'è questo dubbio sull'efficacia su diversi tipi di coronavirus Oltre a questo, la giornata è iniziata con il petrolio e le materie prime agricole che cercano una direzione l'argento e il platino che hanno avuto un inizio abbastanza difficile per la giornata ma poi comunque come abbiamo visto hanno esteso il movimento al rialzo che di ieri e per quanto invece riguarda le valute la sterlina e il dollaro, le statunitense sono le valute principali con le migliori prestazioni mentre il CAD e lo Yen sono quelle peggiori Abbiamo avuto un altro utile, un rapporto sui utili da Wall Street ieri quindi ci saranno anche altri oggi che andrò a parlare però ieri abbiamo avuto quello di Visa che ha registrato un utile operazione nel quarto trimestre di 1,42 dollari mentre invece il previsto era 1,28 quindi già meglio delle aspettative Oggi per quanto riguarda gli eventi principali abbiamo avuto diversi rapporti sul PIL quindi una giornata del PIL abbiamo avuto il rapporto dalla Spagna, dalla Germania che sono stati superiori alle aspettative il rapporto sulla disoccupazione anche in Germania adesso ci stiamo aspettando un pacchetto dati dagli Stati Uniti quindi dei dati sul guadagno personale, spese personali e corpi CE che usciranno alle 2.30 quindi con l'apertura del mercato anche prima dell'apertura del mercato abbiamo anche i dati canadesi e oltre a questo abbiamo dopo l'apertura del mercato il PMI di Chicago che viene molto seguito perché comunque dà un'idea dell'andamento generale dell'economia e altri due dati che sono le vendite di case pending negli Stati Uniti e il sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan finale che comunque è abbastanza seguito abbiamo anche diversi utili prima dell'apertura del mercato quindi leggermente prima che influiranno anche probabilmente sui indici di queste società quindi abbiamo Caterpillar, Chevron, Honeywell e Philips tutte compagnie molto importanti anche magari alcuni di voi riconoscono che rilasceranno i loro rapporti sui utili spostiamoci adesso velocemente sui grafici perché comunque molto movimento oggi in quest'ultimo giorno di trading come potete vedere il DAX questo è il grafico orario del DAX DAX inizia la giornata con un calo quindi con un gap ribassista che porta l'indice al minimo di 13.392 leggero recupero testa questa zona di 13.580 che coincide anche con queste medie e poi invece vediamo adesso un pullback verso la seconda parte della giornata però comunque dobbiamo vedere un attimo con l'apertura dei mercati statunitensi come andranno ad impattare gli indici europei il FUTSMEB di Milano simile giornata difficile gap ribassista e comunque ci stanno cercando una direzione vediamo un attimo anche il CAC 40 francese simile e l'indice inglese quindi il FUTSI di Londra e che magari l'indice europeo è più in difficoltà diamo uno sguardo agli indici statunitensi prima dell'apertura della sessione andamento quasi positivo anche se è laterale dopo questo grande ribasso che abbiamo visto ieri e nei giorni passati comunque c'è stato questo movimento altalenante sia per US500 quindi per l'S&P che per il Nasdaq l'indice tecnologico molto seguito petrolio cerca adesso sta vediamo questo movimento a rialzo questa settimana ci sono stati rapporti sul petrolio che sono stati comunque molto inferiori alle aspettative da un punto di vista di scorte quindi diciamo sono diminuite molto di più del previsto questo sembra aver aiutato leggermente i prezzi ma comunque rimangono in questo range abbastanza ristretto il prezzo come potete vedere appena è il trepassato del Brent la nuvola Ichimoku sul grafico orario queste tre medie mobili quindi la 100-250 periodi e questa zona di reazione dei prezzi quindi andando avanti comunque sarà importante vedere dove si andrà a dirigere il prezzo è una situazione abbastanza simile anche per il WTI che adesso sta testando proprio queste medie mobili di cui dicevo più la nuvola Ichimoku che è molto stretta in questo punto l'indice di volatilità schizza a un livello abbastanza alto perché comunque abbiamo avuto questi movimenti sicuramente molti di voi sapranno della situazione di GameStop un'azione comunque a bassa capitalizzazione un titolo a bassa capitalizzazione che è stato preso di mira da questi investitori di Reddit che sono andati contro le posizioni dei hedge fund che erano molto short quindi erano a vendita allo scoperto di un valore superiore al valore del titolo e hanno fatto dei guadagni molto importanti specialmente con con il prezzo che ha aumentato di centinaia del per cento ultimo ma non per importanza vediamo un attimo anche l'oro situazione simile l'oro intorno a 1867 dollari esce da questo range in cui si trovava comunque da qualche giorno e riesce adesso a testare questa area di reazione di prezzi come abbiamo visto con l'argento anche se la mossa del loro non è come l'argento proprio in particolare che è in rialzo invece del 10% diamo un attimo un altro sguardo alle valute quali sono le valute meglio performanti oggi abbiamo detto che il dollaro comunque ha iniziato la giornata è positivo adesso invece si trova in difficoltà leggera ma anche non di molto contro tutte queste valute emergenti e dei mercati anche rifugio eccetera eccetera l'euro situazione simile abbastanza misto positivo contro i mercati emergenti e le valute rifugio mentre invece in difficoltà contro tutte le altre valute minori e anche qualcuno maggiori sterlina mista simile e il franco invece situazione simile dove comunque si si trova in difficoltà contro la maggioranza delle valute tranne che lo yen per ora questo è tutto grazie per averci seguito il mio nome è Walid Kudmani specialista di mercato per XTB buona fortuna e buon trading grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti